E per l'esperienza che questo gruppo di persone hanno avuto sono tranquillo e sereno sul dirvi che questi sono veramente dei prodotti straordinari. Sono ovviamente fragranze per uomo e per donna. La confezione è elegante, come vedete, queste sono le foto delle scatole. Noi avremo i profumi da uomo che avranno una numerazione che inizia con il numero 1. E i profumi da donna che avranno una numerazione che inizia con il numero 2. Quindi la forma delle bottiglie sono leggermente diverse l'una dall'altra. Innanzitutto vi voglio tranquillizzare sul fatto che sono tutti i profumi che hanno il 20% di essenza. Questo è il fianco laterale della scatola ed è scritto direttamente sulle scatole. Insieme alla spiegazione di tutto quello che c'è da poter fare, da poter dare come prodotto, ma c'è proprio specificato il 20% di essenza. Ecco, questo è il profumo per donna. Tutte le profumi per donna avranno la stessa scatola e la stessa dimensione. Cambierà ovviamente il numero con cui viene contrassegnato. La bottiglia avrà il tappo in oro e, come dicevo, quella per donna avrà il tappo in oro, saranno tutti uguali e cambierà soltanto il numero. La numerazione sarà sia sulla scatola, come vedete in questo punto, sia sulla bottiglia dalla parte dietro. Ci sarà un'etichetta con il numero. Sono 22 fragranze. Il costo per ogni confezione sarà di 24 euro al pubblico con 13 punti volume. Questo veramente abbiamo cercato di fare qualcosa di eccezionale da un punto di vista di prezzo, perché, data la qualità di questi prodotti, non sono prodotti da poco, ma abbiamo cercato di fare un prezzo di penetrazione, un prezzo importante per poter fare in modo che tutte le persone potessero provare questi nostri profumi. Credo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario da un punto di vista di economicità e da un punto di vista di qualità. Abbiamo veramente lottato molto con il nostro fornitore prescelto per avere questo prezzo e questa qualità di prodotto. Quindi, come vi ripeto, questo è quello da donna con la forma leggermente più allungata, mentre quella da uomo è leggermente più quadrata e il tappo è di colore argento. Stesso discorso, scatola elegante, numerazione, come vi ho detto, che comincia con il numero 1. Dalla parte dietro abbiamo la bottiglia che ha l'etichetta, come sulla scatola, come avete visto prima sulla scatola, c'è il numero sulla scatola e nella bottiglia abbiamo dalla parte dietro il numero corrispondente alla fragranza. Anche quello da uomo sono 18 fragranze e ha un costo che è questo di 24 euro contro il 5 euro. Non poteva mancare, ed è essenziale per il nostro lavoro, un campionario. Un campionario che è fatto di un materiale con cui c'è stampato, di un materiale che non è pelle, è un similpelle, c'è stampato sopra il luogo di snap, dalla parte di dietro c'è stampato snap, ed è in beige e nero, molto molto elegante, ha la sua scatolina di contenimento dove viene spedito dentro la scatola così da essere ben confezionato. Anche l'occhio, come si dice, vuole la sua parte. Il campionario, come vedete, viene riempito con tutti i piccoli spray da poter far sentire. Le bottiglie sono da 3 ml e sono spray con cappuccio. Come vedete c'è il cappuccio sopra di protezione. Sembra che il cappuccio di protezione in questa piccola bottiglina sia importante in quanto non fa perdere la fragranza del profumo. Nel campionario ovviamente c'è anche una brochure che verrà inserita, ne mandiamo circa una ventina, 25 ogni campionario, poi potete prenderne quante ne volete. Nella brochure ovviamente c'è la lista delle profumazioni sulle note e c'è accanto il nome del profumo che abbiamo preso come riferimento. Quindi avrete le 18 maschili e le 22 femminili e avete tutti i riferimenti su questa brochure tanto per rendervi conto. Questa brochure poi vi sarà utile quando parlate con le persone per poter appuntarvi qualcosa, se vogliono ordinarvi qualcosa oppure qualche altra notizia necessaria la potete mettere su queste note. Dalla parte esterna vedete qua con questa signora bionda che ha in mano una bottiglia del nostro profumo e dalla parte interna c'è la fotografia di un uomo che si spruzza del nostro profumo. Questo è tutto per quanto riguarda il prodotto e per quanto riguarda la possibilità di avere tutti gli elementi necessari per poter fare il nostro lavoro. Sul sito trovate ovviamente tutte le fragranze per esempio questo vi ho fatto un esempio 101 è il numero di corrispondenti ispirato sulle note di Aventus ispirato sulle note di Invictus eccetera eccetera ogni fragranza ha il riferimento che noi scusate si è un po' presentato ma mi è partito tutto eccoci qua che ci arriviamo torniamo al nostro punto ecco qui avete come vi dicevo il back office e qua potete scegliervi tranquillamente il vostro cioè ognuno può scegliere il suo profumo al di là del numero c'è anche le note su cui ha ispirato quando si va a fare l'ordine avete la possibilità di fare l'ordine del singolo prodotto quando si fa aggiungere il carrello avete la possibilità di scegliere oltre a scegliere direttamente la fragranza c'è anche la possibilità in questa tendina di poter scegliere nuovamente la fragranza uno può andare su uno qualsiasi e poi alla tendina che si apre c'è la doppia soluzione bene questo è questo lancio diciamo un po' informale nel senso un po' diverso dai normali perché mancano che so le fragranze mancano gli applausi mancano i prodotti da sentire materialmente beh dal vivo sarebbe stato molto molto più più affascinante più coinvolgente ma io voglio che a parlarvi di tutto questo adesso di tutto il lavoro che c'è stato perché questa persona questa persona mi ha dato supporto aiuto e mi sta mi ha dato fin dall'inizio tutto mi ha messo a disposizione tutta la sua sapienza e la sua conoscenza quindi mi ha aiutato nella scelta diciamo che se c'è un responsabile non sono io responsabile ma se c'è una persona che aveva la possibilità di poter di poter mettere bocca e avere competenza in questa tipologia di prodotti era scelto lui non io ve lo voglio presentare Gianni sei in linea? assolutamente sì eccomi attivati la telecamera pronti? sì attivati la telecamera vai dammilo ok sì ok puoi attivare la telecamera lo devi fare te eh andare sulla telecamera sì sì ma mi dice che me la devi abilitare aspetta allora vediamo se ti abilito sì altrimenti non parli eccoci qua ci siamo bravo perfetto tutto bene? buonasera presidente buonasera diamanti buonasera distributori snap parlare di emozione è qualcosa di riduttivo stasera perché come hai ben spiegato in questo progetto ci abbiamo creduto fin dal primo momento e quando mi hai chiamato per dirmi quella che era la tua idea di lanciare il profumo ispirato se ben ricordi io dissi puoi ripetere perché non ho capito bene sì ti confermo che c'è questo progetto in essere ti piace? cosa ne pensi? quindi io voglio innanzitutto ringraziarti pubblicamente per avermi preso in considerazione in questo progetto sono sono un distributore che ci ha messo il cuore e l'anima fin dal primo momento ci ho creduto tanto perché conosco la storia del profumo e so esattamente quello che è il potenziale che il profumo può dare ad una rete di network come la nostra quindi essendo Snap una grande azienda non poteva mancare una linea di profumi ispirati abbiamo tra gli integratori migliori del mercato abbiamo una cosmetica eccezionale abbiamo un make up fantastico beh mancava solo una linea profumi adeguata adesso pensando un attimino ai miei colleghi che mi stanno ascoltando ma ditemi la verità ma quanto siete felici da uno a mille di poter acquistare il vostro profumo preferito ok ad un quarto del prezzo di mercato vero? leggo duemila centomila quindi mi state confermando che l'idea l'idea vi piace ecco quindi il progetto capite bene che era molto molto ambizioso e quando il presidente ha detto che abbiamo scelto il meglio non lo saprete fino a quando non vi arriverà il prodotto a casa io sono stato ovviamente il primo a provarlo ma di seguito a me sono arrivati tanti clienti che erano assolutamente all'oscuro di quello che stavano provando che sono stati dei riferimenti dei test ok che ci hanno permesso di capire quanto fosse di qualità la fragranza e la persistenza che stavamo utilizzando questo perché la nostra esperienza nel settore dei profumi ci hanno insegnato che il fatto che un profumo possa essere ispirato ad un prodotto griffato non significa che non possa essere un prodotto di qualità volevo precisare che il formato unico e standard è di 50 ml ok perché questo non è stato detto quindi lo voglio precisare e inoltre che l'attuale linea parfum snap che è attualmente presente non decade con il lancio di questa nuova linea quindi sono due informazioni importanti che ci tengo a darvi quindi tutti quelli che attualmente utilizzano lettera d'amore piuttosto che maglieremai ok o regina di cuore o chi che sia questo prodotto attualmente rimane disponibile quindi è una linea parfum che si fa ad affiancare a quella esistente perché parlo di emozione perché il profumo è emozione questo prodotto vi posso garantire che cambierà in maniera radicale il vostro approccio col cliente per tanti motivi ve ne racconto uno dato che noi siamo dei consulenti e vendiamo integratori del benessere diciamo che quando diamo un integratore al cliente gli promettiamo ok o comunque gli diamo la fiducia di quello che sarà un risultato futuro quindi abbiamo un riscontro dopo una settimana 15 giorni un mese bene il profumo questo effetto è immediato il profumo è qualcosa che si sente subito o piace o non piace questo è un grande vantaggio per certi versi ma diventa molto più impegnativo per noi distributori giocarci tutte le nostre carte in dei tempi così brevi ecco perché è nata praticamente un'esperienza che sarà fornita attraverso dei corsi di formazione ok vi segno vi do delle date segnatevele dove potete potrete toccare con mano il prodotto potrete sentirlo potrete annusarlo potrete provarlo ma riceverete anche delle competenze delle informazioni sia storiche ma anche più tecniche e perché no anche di tecniche di vendita ok sull'utilizzo del profumo questo perché perché Snap pensa veramente a tutto quindi nella sicurezza nella della qualità del prodotto che abbiamo lanciato e che proverete abbiamo anche voluto rendere edotti i distributori sugli strumenti idoni a vendere un profumo ispirato questo perché ci sono delle frasi killer ok che assolutamente un distributore non deve usare quando vende un profumo ispirato quindi onde evitare di farvi perdere clienti e punti l'azienda ha pensato bene di rendere disponibili dei corsi ok di formazione sulla tecnica di vendita del profumo e dove c'è la possibilità di toccare con male e sentire il profumo segnatevi queste date che sono l'8 giugno ad Arona a Milano il 9 giugno a Bologna e assolutamente non potete mancare il 22 23 a Chianciano ovviamente dove ci sarà una parte una sezione dedicata al lancio del prodotto e dove dovete condividere al massimo questo evento perché tutti i vostri distributori soprattutto i nuovi potranno toccare con mano la nuova linea parfa altra data da segnare il 13 luglio in Sardegna a Cagliari vedo già gli amanti che stanno che stanno gridando si siamo felici si siamo tutti ok ragazzi ci abbiamo messo dei mesi a tirare su questo progetto vi posso assicurare che non è stato facile ci siamo confrontati tante volte con il presidente e gli ho detto tante volte il mio punto di riferimento deve essere la rete i distributori devono essere assolutamente felici contenti soddisfatti nel vendere un prodotto di qualità vi posso garantire inoltre che il prezzo di vendita al pubblico è qualcosa di favoloso rispetto alla qualità e ve lo racconto con un esempio pratico come spesso sono abituato a fare durante le mie presentazioni qualche giorno fa come ultimo test ho spruzzato il parfum numero 101 ad un mio amico nonché cliente che utilizza già gli indicatori snack a chi gli ho detto guarda questo è il nostro nuovo prodotto ed è il profumo che a te piace tanto quanto lo paghi al negozio e dici questo costa 250 euro sì 250 euro perfetto senti questo vai a casa domani mattina chiamami e dammi un riscontro anche la mattina dopo mi chiama e mi dice amico mio dice devo farti ridere ascolta questa ieri sera vado a casa neanche entro l'uscio di casa mia moglie mi viene incontro e mi dice alla fine hai speso di nuovo 250 euro per comprarti il tuo profumo riferito e lui gli ha risposto sì si sente così tanto è certo che si sente è fantastico ci credo bene dice questa volta dice ti devo dire c'è qualcuno che ride ti devo dire che questo non è il profumo griffato ma è il profumo che mi ha venduto già è favoloso favoloso mi ha detto me ne puoi portare due ok ragazzi questo piccolo esempio pratico ma tanti altri ne faremo mi saranno spiegati durante il corso durante questi corsi saranno qualcosa di meraviglioso perché potremo condividere insieme le esperienze potremo imparare insieme io avrò tanto da insegnare a voi e voi avete tantissimo da insegnare a me su quella che è l'esperienza della vendita ragazzi il profumo richiede un approccio prevalentemente offline quindi le persone il cliente deve sentire deve toccare con mano e soprattutto valutare la qualità e la persistenza e questo attraverso un computer capite bene che rimane difficile da fare ecco perché tutti quanti saremo ai dotti verso questo nuovo tipo di approccio e questo qui ve lo faccio vedere la vedete questa valigetta ecco questa qui diventerà uno dei vostri migliori amici nei prossimi mesi la porterete sempre con voi ve lo posso garantire non riuscirete più a farne a meno quello che si apre stasera secondo me è una nuova era di snap pensate soltanto a quante aziende di network negli ultimi dieci anni hanno lanciato il business network in Italia partendo solo ed esclusivamente dalla linea profumi questo può darvi l'idea della grandezza del progetto in cui ci stiamo lanciando noi siamo ambiziosi l'azienda ci crede io ci credo e vi posso assicurare che imparerete a crederci anche voi soprattutto quando toccherete il prodotto con mano e lascio la parola al presidente resto a vostra disposizione per direzione dell'azienda per qualsiasi chiarimento ma il mio invito è assolutamente partecipare al corso perché ci divertiremo insieme e sarà un'esperienza sensazionale buonasera a tutti ragazzi grazie Gianni grazie veramente non potevo scegliere collaboratore migliore sei fantastico hai un sacco di complimenti che ti stanno facendo da tutte le parti allora c'è c'è da dirvi ora quando partiremo avevamo pensato di partire prima di Natale però poi mi hanno mi hanno detto che era un po' troppo tardi a parte che con la stagione come ora sembra essere di novembre quindi sarebbe vicino Natale non so dalle vostre parti ma qui in Toscana veramente sta sta diluviando no partiremo allora li metteremo in vendita da domani ci saranno sia i profumi sia i campionari in vendita da domani ma il tutto sarà spedito non prima di martedì quindi siccome è a fine mese voi potete fare gli ordini ma tenete presente che se ordinate nella sezione profumi ispirati e ordinate anche altri prodotti il vostro ordine non partirà venerdì ma partirà martedì se invece il vostro ordine è soltanto di altri prodotti senza profumi partirà regolarmente come sempre se aggiungete la parte dei profumi ispirati avremo le spedizioni martedì e quindi le consegne per mercoledì i profumi verranno inseriti in tutta Europa compreso anche ovviamente la Romania perché me lo stanno chiedendo e quindi sì anche in Romania verranno venduti questi prodotti verranno venduti in tutta Europa quindi niente altro che dirvi grazie per aver partecipato siete state qui di 700 persone fra Facebook e qua in questa in questa conference grazie veramente abbiamo cercato di fare di fare un lavoro fatto bene questa volta ci abbiamo lavorato abbiamo già ne ha dato tantissimo con tutta la sua esperienza perché lui come tanti altri che sono con noi hanno un'esperienza precedente che proviene da questo settore devo dire che meno male che ho trovato persone di grande esperienza che hanno saputo darmi i consigli giusti e abbiamo ottenuto veramente il massimo senza temere smentite io vi ringrazio vi auguro una buona serata e grazie ancora a tutti arrivederci